La Giorgio Tesi Group all'inizio della stagione probabilmente non si sarebbe mai aspettata di trovarsi in questa posizione di classifica dopo 8 giornate. Secondo posto dietro a Cantù e da fianco di corazzate come Udine, Torino e Treviglio, ma anche quarto miglior attacco con 639 punti segnati ed una media di quasi 80 punti a gara e quarta miglior difesa, senza dimenticare ovviamente la vittoria in Supercoppa. I punti di forza fino ad oggi sono stati proprio la difesa ed una precisa identità di gruppo che il coach Nicola Brienza ha saputo dare alla squadra in pochi mesi. Vero che i biancorossi non catturano molti rimbalzi e questo è un aspetto sul quale la squadra dovrà lavorare, soprattutto con i due lunghi magro e del chiaro, ma è anche vero che è il miglior difensore dell'intero campionato, quel Carl Wiedel che è primo nella classifica di Lega dei rimbalzi difensivi canturati, ben 7-6 a partita, quarto in quella dei rimbalzi totali e ancora primo in quella della media delle palle recuperate, quasi due a gara, 15 in totale. Altro valore aggiunto, oltre alla crescita del gruppo dei giovani, sono sicuramente i due americani. Jess Johnson è entrato subito nel cuore dei tifosi grazie alla sua simpatia, esplosività e capacità realizzativa. Al momento è il quarto miglior marcatore di Lega con 18-8 di media a partita, mentre Daniel Utomi sta iniziando a dimostrare il suo valore e Domenica a Biella è stato tra gli MVP del campionato, con 26 punti realizzati e 29 di valutazione. La squadra questa settimana ha avuto due giorni di riposo dal proprio coach, visto che Domenica è costretta a riposare per l'impegno di Wiedel e Risma con le rispettive nazionali e non potrà disputare la gara casalinga contro Capodorlando, rinviata a mercoledì 22 dicembre. Dal lunedì prossimo però si torna a fare sul serio, visto che il futuro impegno si chiama Reale Mutuo a Torino, ulteriore ed importante banco di prova per testare la vera forza di un gruppo che continua a stupire.